L'esperienza di Stefano, anche lui al Terzo Quartetto, però si è svolta secondo un asse temporale molto diverso, perché tutto sommato si sono concentrati, diciamo, nell'ultima fase. Comunque, sono quartetti che sono stati composti nel nuovo millennio, entrambi, e quindi all'interno della tua produzione, anche tu cospicuo, insomma, ormai a questo punto, hanno risposto ad un'esigenza un pochino diversa, cioè i suoi erano stati distribuiti in un asse temporale molto più dilatato, quindi ha corrisposto anche un'evoluzione. In te si avverte piuttosto un'urgenza di riflessione attraverso questo mezzo. Quando hai finalmente composto il primo, non ti sei probabilmente subito arrestato nel rapporto con questa forma, cioè con questa morfologia più che forma. Trovando soluzioni sempre diversi, cioè con scarti continui, e in una fase in cui la tua poetica, credo, abbia conosciuto... Un'evoluzione. Un'evoluzione, ma se vuoi anche un definitivo, cioè l'assestamento non è definitivo, però una riflessione molto più meditata su alcune cose che tu hai rimesso in gioco, soprattutto negli ultimi anni. Sì, anche se, come Alessandro, c'è una produzione giovanile inedita. Questo non possiamo... Uno dei miei primi pezzi è stato appunto un quartetto con altri tre quartetti, un quartetto con altri tre quartetti in eco, e ogni quartetto accordato un quarto di to... o addirittura un sedicesimo. Ma cosa fu eseguito anche, no? No, no, non mi è stato eseguito. L'ho scritto ancora quando ero in conservatorio, l'ho presentato ai vari docenti del conservatorio, a nessuno è piaciuto, per cui è rimasto lì. È rimasto lì. Perché era utopico? Perché era un po' utopico per via della scordatura. Non so se era quarto di tono, terzo di tono, sedicesimo. Devo andare a controllare il manoscritto che esiste. Poi ho scritto un trio nel 95, e ci ho messo un po' prima di arrivare al quartetto, perché il quartetto è un po' così, doveva essere un traguardo, anche perché ho inteso il quartetto un po' come un approccio appunto delle forme classiche, quindi con tutto il peso, le paure, eccetera. Però ho scritto anche un... Però gli archi mi piacciono molto, anzi, credo che... Ieri abbiamo anche ricordato su una domanda che Maurizio aveva fatto un grosso lavoro che si è inframmezzato, questo, dove il complesso d'archi, il sestetto, è stato coniugato, cioè è derivato da un lavoro... Però l'amore per gli archi, o per uno strumento in particolare, che è la viola, non è servito all'inizio per arrivare alla scrittura per quartetto, e solo nel 2001, con la maturità acquisita, con il passaggio al nuovo millennio, ho cominciato a scrivere per quartetto, per il quartetto Prometto, il primo, a dirti secondo, 2006, 2013, quindi scanditi ogni cinque, sei anni, e di ottima alla fine. Ti sei fatto i tre quartetti più prestigiosi. No, beh... come lo è stato per tanti compositori, è un laboratorio privilegiato, nello stesso tempo formale, i miei tre quartetti sono tutti e tre piuttosto lunghi, e basati su gli esperimenti formali diversi, di scrittura, quindi abbordare più o meno le tecniche cosiddette estese, però paradossalmente il mio terzo è più un ritorno a una scrittura di note, dove c'è comunque qualche gracchiamento, però inquadrato in una prospettiva che va verso il lavoro sulla nota, sulle figure, sugli incontri verticali, sulla polifonia, tutti i parametri più tradizionali. E la terza cosa, esperimenti espressivi, perché così come il tuo terzo è un quartetto lettre antime, il mio secondo è un quartetto lettre antime, il primo era più un quartetto freddo, proprio di spazzettamento formale. perché nel caso di Stefano i titoli hanno... Astratto, il primo era astratto. Un valore simbolico, a volte anche criptico, in rapporto all'autobiografia che lui mette. Allora, il primo quartetto è strada non presa, e quindi con un'idea di scarto continuo... Di bivio, di deviazioni da prendere o non prendere. L'altro è veramente quasi una riflessione intimista, quasi un romanzo epistolare, piccolo romanzo epistolare svolto in musica. Si lettra l'obscurite, un zweinachrit, due notizie. Otto movimenti. Dai. Due notizie, no? E due sms. Ah beh, sì. Messaggi brevi. Il terzo, appunto, dove un certo tipo di esigenze espressi, ma vedremo con quali particolarità, perché non è sempre così, nel caso della musica di Stefano, una così trasparente, l'idea di espressività, anzi è un rapporto molto più complesso, introverso da questo punto di vista, ha un titolo esclamativo, quasi, clamo. Dico questo per... Ma contiene... Amor. Ma contiene amor. Sì, non so, per parlare del terzo, che è quello di stasera, è un quartetto che dura 30 minuti, 29, che è stato scritto nel 2013, in una prima versione, a cui ho poi aggiunto una seconda parte, non alla fine, ma all'interno, qualche piccolo interstizio, qualche misura aggiunta all'interno, e poi alla fine, nel 2015, l'anno scorso, ancora una parte finale, che riprende in parte un elemento centrale e lo sviluppa, perché rimaneva così, è l'elemento più energico, che però appariva e non veniva mai sviluppato, non veniva mai risolto. In questo caso non è risolto, ma è molto amplificato in maniera parossistica. Però questo mi consente di fare un ritorno all'inizio, con una scordatura, nel quale, e con un tempo estremamente dilatato, nel quale, che questo ritorno, sembra un ritorno a casa, ma un ritorno, come Ulisse, che non ritrova più la, che è considerato uno straniero, quindi si ritorna a casa, ma con un atteggiamento, con una sensazione di straniamento totale. E quindi è anche questo un esperimento espressivo, perché è l'idea, cosa che per me è importante, di poter riuscire ad essere più esuberante, proprio, quindi uscire da questa introversione, che è caratteristica del primo, in un modo, perché è astratto, del secondo, perché è intimista, e nel terzo è un tentativo di essere espansivo, senza essere banale, chiacchierone, che corrisponde a, nello stesso tempo, a una volontà di voler controllare questo desiderio di essere esuberante con le sordine, per cui più divento esuberante e più metto delle sordine che vanno contro questo desiderio. E in realtà si chiama clamor, ma è l'idea di scavare in una massa che si fa sonora che si fa sempre più ricca delle osi di silenzio, come queste qui nel castello, e di ritrovarlo in silenzio, non tanto di darlo per assunto, come spesso capita con la musica contemporanea, no? Il silenzio è diventato un cliché. Diciamo, è il punto poetico centrale di questo quartetto. Io vorrei citare le tue parole perché sono talmente esplicite ed esatte. come ottenere il silenzio attraverso l'esuberanza sonora, quindi uno simulo, se vuoi, e non attraverso la cancellazione fisica della vibrazione sonora. Scoprire e rivelare il silenzio nella materia sonora senza negarla, anzi esaltandola. Rivelare il silenzio attraverso il suono. E così, insomma, via di seguito. Direi il silenzio senza tacere. Sì. E fra l'altro io mi rilaccio con lo che dice Alessandro perché... No, vorrei che commentassi questo perché è abbastanza interessante. Ah, come scrivere della musica silenziosa, della musica che invita al silenzio senza essere silenzio. poi è vero che secondo me tutti i compositori del passato e del presente hanno questo desiderio di silenzio e la loro musica serve semplicemente per avvicinarsi in una maniera più o meno giusta, più o meno rispettosa. Cioè, ce l'ha Beethoven come ce l'ha Weber il desiderio di silenzio. Ma in questo caso cosa intenderesti per silenzio? ma intendo intendo un po' questo cioè come inserire dei momenti di puro silenzio tant'è che appunto cambiano la sordina senza suonare cioè mettono una sordina la tolgono ne mettono un'altra poi suonano che poi vabbè diventa teatrale ed è un silenzio che si apprezza solo al momento del concerto discograficamente sarebbe sarebbe bianco fisico c'è questo problema che la sordina di metallo devi infilarla bene e c'è questa paura che faccia rumore quindi sia il silenzio ma fa rumore però però sei teatralizzato è teatralizzato perché infatti in partitura è indicato ritmicamente come farlo e anche una voltata che è una voltata inutile però è teatrale e l'altra cosa è che il rumore della sordina così come il rumore della scordatura alla fine è parte integrale come hai detto tu per il tuo pezzo infatti sono io che ho copiato ci siamo copiati e quindi il silenzio è un traguardo ecco perché c'è una figura prima di di quattro note all'inizio che poi diventa di tre che poi diventa di due che poi diventa di uno che è una figura banalissima legno battuto tan 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 che ritorna sempre è una specie di leitmotiv che non ha nessuna consistenza ma che che diventa un 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 marker per usare una parola cioè marca scandisce alcuni tempi della della competizione che permettono all'ascoltatore di riconoscere che c'è un processo in corso che è quello di approssimarsi sempre di più al silenzio poi vabbè finisce nel grave finisce perché c'è la squadratura finisce con un tempo estremamente dilatato finisce con la sordina di legno mi pare adesso non mi ricordo più non di metallo ma di legno e quindi è un progressivo avvicinamento del silenzio senza senza raggiungerlo veramente e l'altra cosa è che le tecniche estese qualcuna è una sono tutte tecniche io le concepisco come filtri applicati così come la sordina applicati al suono esuberante per cui mettere una pinzetta suonare a ponticello suonare con legno la potenza del suono diminuisce l'espansività del suono diminuisce e quindi c'è un contenuto di silenzio c'è Marco Andrei che lo chiama suono perforato io lo chiamo suono poroso è un suono che contiene aria che contiene del vuoto e quindi l'idea del silenzio è anche questa che i suoni lo contengono non che il silenzio sia lì fisico da assenza di movimento il movimento c'è ma è un movimento silenzioso e quando c'è veramente il suono è sostituito dal teatro per cui diciamo sì poi del silenzio non si può ovviamente come Dio non si può dire nel momento in cui lo dici non è più silenzio forse non esiste neanche il silenzio non è ma proprio per quello proprio perché non esiste che lo si desidera ancora di più dunque di fronte comunque a un'esplorazione già molto articolata nelle vostre nel vostro catalogo cioè nelle vostre composizioni quali sono le immagino che non riterrete esaurita la possibilità di tant'è che tu hai detto ho già idee per altri quartetti insomma e messaggio all'editore no non per questo ma visto che appunto le caratterizzazioni dei vostri lavori nel vostro complesso hanno già coperto tutta una serie di esigenze e possibilità che siano di tipo formale espressivo quali saranno i campi di indagine ovvio che si parla in astratto ora perché bisognerà materialmente avere la possibilità concreta ma quali saranno ancora i campi di indagine aperte in rapporto a questo medium ad esempio io banale l'abbiamo detto molte volte ieri però pensando anche pensando alle due cose che non ha nominato cioè questo tempo di quartetto perché tempo di quartetto è un pezzo per quartetto d'archi perché c'entra col fatto di percepire il quartetto nella sua severità nella sua asciuttezza e questo mio quello di cui quell'oratorio di cui tu dici Giulia quell'oratorio scritto lo chiamo oratorio perché si chiamava oratorio adesso mi rendo conto che poi ridicolo dire oratorio però insomma è una cosa per soli coro e grande ensemble su testo dal vecchio testamento quindi bene o male si chiama oratorio quindi attenzione la strumentazione era 15 strumenti in quel caso l'idea di fare un inizio un inizio di 5-6 minuti però un prologo se volete per solo quartetto d'archi quando li suonano in quattro e dietro c'è un coro di 20 persone e altre 11 dell'ensemble a cui le percussioni era proprio significativo il fatto che volevo entrare in un territorio sacro perché avevo preso l'episodio che amo di più di tutto la vecchia testamento forse interessa scrittura e volevo come dire aprire la porta della serietà di questo testo mediante la strumentazione più seria cioè il quartetto d'archi che tra l'altro in quel caso incarnava le tre fasi il brano era quello di Elia nel deserto che entra nella grotta gli viene detto esci dalla grotta verso il mattino e il signore sarà presso di te e c'è scritto quella cosa che trovo stupefacente cioè vende un fuoco che brucia tutto il signore nel fuoco venne un terremoto che spaccò tutto il signore non era il terremoto venne una terza e vento terremoto e beh che figuraccia adesso non mi ricordo il terzo non importa terremoto vento e fuoco questo è sì sono queste tre venne un sussurro di brezza Elia si coprì il volto è uscito dalla grotta che poi non è è uscito dalla grotta ma nel testo originale è stette sulla soglia di fatto quel quartetto d'archi rivive anticipa queste tre fasi è arrivata all'ultima per il quartetto aprì l'oratorio i sette pezzi sono legati ad un'altra cosa di questo genere c'è questo strisciante riferimento alla sacralità i sette pezzi sono un'esperienza non la cito mai perché è un'esperienza che nacque come cosa privata cioè erano una commissione di un amico una commissione personale un modello un modello diciottesimo secolo di un signore amico che mi commissionò della musica per quartetto d'archi per una messa il signore non era particolarmente religioso per una messa per se stesso e per sua moglie prendendomi per un braccio e alla fine della richiesta dicendomi e questa musica ti prego dovrà contenere il senso della morte adesso non importa qual era forse la ragione c'era una ragione personale che ho scoperto mesi dopo e anche in quel caso però non poteva essere che il quartetto d'archi secondo questo signore cioè c'è questa impressione che il quartetto d'archi ti costringa sei nudo davanti alla carta col quartetto cioè è una specie di specchio severo di te stesso non ci sono facili concessioni timbriche non c'è una risonanza a pagarlo un milione non è niente di facile quindi che il quartetto funzioni come laboratorio e che segni a me fa molto piacere ogni tanto tornare al quartetto d'archi infatti ho sentito troppo lunghi questi undici anni in mezzo ci sono quei sette pezzi ma era un'esperienza completamente diversa perché c'era un riferimento altro ho trovato questo materiale di cui gli amici qui intorno ho trovato questo materiale che mi è molto caro cioè quella che per me che io pensavo essere l'unica possibilità di quattro triadi due maggiori due minori che coprono il totale cromatico senza ripetizioni poi un amico ne trova una seconda col computer lui però io a mano comunque dovrebbero essere solo due le possibilità e quindi un materiale che poi io arricchivo di note contigue in modo che fosse un materiale diatonico ma di totale cromatico eccetera quello era un passo poi ritenevo fosse un'esperienza soltanto tra me e quel signore lì poi dopo facendoli per orchestra d'archi sono diventati un pezzo più suonato di molti altri secondo me i prossimi passi io vorrei mi piacerebbe tanto avere l'appuntamento col quartetto d'archi ogni volta che sento la necessità che a me è abbastanza frequente diciamo ogni cinque anni di ripulire di resettare come taggare usando i verbi vostri di ripulire tutto ripulire tutto riporsi da capo a certe domande le domande non sono sempre diverse perché in fondo per tutti noi poi alla fine le domande sono sempre le stesse però siccome bene o male si cresce si cambia si vivono cose si conosce musica si vedono modi di pensare ieri per me è stato molto importante sentire alcune cose che ho sentito so che mi influenzeranno alcune cose che c'esse qua vorrei avere il quartetto come prossimo non so che cosa ci farò ad esempio ne dico una sola poi smetto il fatto che in questo caso in questa versione in questa versione nasca dal fatto che ho sentito l'altra come esuberante dal punto di vista inventivo ma in un'arcata unica e quindi sentivo questo contrasto tra molte idee una dopo l'altra e un po' troppo una fianco l'altra giusto o sbagliato che sia però sai e che abbia sentito la loro necessità di separarle mi fa però mi riporta l'idea che accidenti vorrei tornare a un'unica arcata ampia dove possono esserci tante cose ma dove io non senta io ho sempre avuto l'anelito alla trasformazione continua dopodiché poi finisco per fare ecco prossimo passo potrebbe essere un nuovo anelito alla trasformazione continua ad esempio e comunque l'idea di ritornarci come il prossimo laboratorio come avere lo studiolo in cui ti ritiri pulisci tutto ti togli quello che è addosso e ricominci da capo Stefano invece io ma io adesso sto scrivendo un piccolo pezzo con voce e quartetta sempre per il di ottima l'esperienza sta già proseguendo quasi immediatamente anche se non lo considero anche se è una cosa particolare sì non lo considero nella traiettoria dello sviluppo della scrittura per quartetto mi piacerebbe scrivere un quartetto con elettronica perché quello mi manca e dove si sarebbe scritto unicamente con note visto che poi c'è l'elettronica che farebbe ogni tipo di perversione farebbe il resto e l'altra cosa mi piacerebbe pensare al quartetto come un ambiente che accoglie altre cose quindi potrebbe accogliere l'elettronica quarto quartetto potrebbe accogliere una voce non ancora fatto questo è per voce recitante diciamo è un ipotetico quinto quartetto ma nello senso di Schoenberg secondo quartetto cioè che a un certo punto l'afflato il desiderio di il melos non può essere più espresso dagli altri archi che sono secondo me gli strumenti più legati alla voce ma nella mia visione un po' forse distorta della realtà acustica più dei fiati sì perché c'è una possibilità di modulare il suono solo per te la viola per me è violoncello ecco storicamente la letteratura per strumento ad arco deriva poi dalla letteratura vocale sì però diciamo l'emancipazione strumentale viene fatto viene fatto all'inizio però mi piace che ci sia un po' di distanza cioè il fiato non interviene direttamente nella creazione del suono ma è evocato dal soffio dell'arco dal vibrato dal modo di usare l'arco insomma quindi che a un certo punto emerga la voce che è già contenuta all'interno di questi suoni di questa filigranea di suoni mi pare uno sbocco naturale ecco poi non so poi magari mi fermo lì non farò come Rimm che è arrivato a la domanda è se ha superato Beethoven o no sì no l'altra cosa che però è un esperimento giusto è che così come non si hanno troppe difficoltà a scrivere ammesso che te li commissionano dei pezzi per orchestra no perché si immagina l'orchestra come una risorsa infinita di colori e di tutto provare a scrivere un sesto quartetto avendo diciamo sparato tutte le cartucce e vedere dove va a finire senza troppo dover puntare su un dispositivo particolare elettronica voce forma ma dire avere questo rapporto quotidiano o veramente intimo con una forma che è entrata dentro di te perché dopo il sesto dopo il sesto dopo il terzo per il momento puoi sentire che veramente si scrive un terzo quartetto è diverso scriverne due ma averne scritto tre vuol dire Janacek si è fermato a due Berg sono tutti romantici tre di Schumann tre di Brass ecco esatto siamo sulla soglia del sesto arrivati lì vuol dire che la forma del quartetto ti permette di dire delle cose che neanche immagini non hai bisogno di prepararti un dispositivo no sulla carta che dica adesso farò così poi farò cosa ci aggiungerò questo ci aggiungerò qualcosa ma diventa una quasi una trascrizione sì immediata sì un foglio di carta dove volentieri ti ci metti non è più quella paura che dicevi prima